Si sono dati appuntamento in piazza dei signori per dire no ai tagli indiscriminati e al pubblico impiego. Sarebbero 2000 i posti di lavoro che CGL, CISL e Will in provincia di Treviso vogliono difendere e che sono a rischio per la tanto temuta spending review. Stiamo parlando della sanità, stiamo parlando degli enti locali, stiamo parlando di chi si occupa tutti i giorni di lotta all'evasione, stiamo parlando di chi si occupa tutti i giorni di istruire i nostri figli, stiamo parlando di chi tutti i giorni esce per gli incidenti per soccorrere le persone, stiamo parlando dei visi del fuoco. Non ci opponiamo alla riorganizzazione del lavoro dei dipendenti pubblici, ma il rischio, oltre alla perdita dei posti di lavoro, è quello di ridurre in termini di quantità e qualità i servizi al cittadino, fanno sapere le parti sociali. Quello che il sindacato teme è che riorganizzazione per i governi voglia solo dire recupero economico a scapito dei cittadini. Con la chiusura dei tribunali di Conegliano e Castelfranco le ripercussioni sono già avvertibili nella marca, ma risentirne saranno anche e soprattutto gli enti locali. A questo punto se mancano soldi e non riqualificano invece l'attività della pubblica amministrazione, alla fine i cittadini per avere lo stesso servizio dovranno pagarlo tre volte, con le tasse e con ciò che li verrà chiesto quando avranno bisogno di essere tutelati.